...di IFEL che come sempre danno supporto così prezioso alla realizzazione di questi seminari. Il ringraziamento ovviamente si allarga a tutto il gruppo di lavoro del progetto Metropoli Strategiche, per i pochissimi, anche perché siete davvero davvero tanti, quindi immagino che non tutti conoscano il progetto Metropoli Strategiche, una parola veloce, un progetto finanziato dal PON Governance che ha come organismo intermedio il Dipartimento per la Funzione Pubblica, con l'obiettivo di dare sostegno e supporto alle città metropolitane, all'ente città metropolitana, in tutte le sue funzioni fondamentali che la legge del Rio ha attribuito, che sono funzioni nuove e che spesso devono essere costruite dal nulla o fondandosi sulle competenze che già c'erano in origine negli enti provinciali dalle quali le città metropolitane sono nate. Per questo, questo progetto che ormai da più di due anni è attivo nel supporto alla pianificazione strategica metropolitana, alla gestione associata dei servizi e il terzo tema, la terza linea di lavoro, è proprio quella che stiamo affrontando oggi insieme, che è quella della semplificazione amministrativa per lo sviluppo economico. Come sappiamo tutti, funzione fondamentale della città metropolitana, così come attribuito dalla riforma del Rio. Il webinar di oggi è dedicato alle novità, è intervenuto in tema di procedimento amministrativo a seguito dell'approvazione del DL76 del 2020 ed è parte di un corso che è disponibile sulla piattaforma di e-learning del progetto Metropoli Strategica, un corso che è articolato in sei moduli, lo dico per tutti quelli che sono interessati al tema e più in generale che all'interno di una città metropolitana vogliono arricchire il proprio patrimonio di competenze. e questi sei moduli saranno a disposizione a distanza di una settimana l'uno dall'altro in modo da dare a tutti i partecipanti la possibilità di interloquire con i docenti, di scambiarsi opinione, di raccontare le proprie pratiche perché la piattaforma di e-learning del progetto Metropoli Strategica sostiene ovviamente appunto queste forme di comunicazione tra i discenti e tra i partecipanti ai corsi. Insieme a queste lezioni multimediali e agli approfondimenti che verranno messi a disposizione delle città metropolitane abbiamo organizzato un ciclo di quattro webinar sulle principali novità in tema di semplificazione amministrativa. Il primo webinar, il primo appuntamento è quello di oggi. Oggi avrebbero dovuto essere con noi anche, avrebbero dovuto essere con noi colleghi di Anci, Antonella Galdi e Mauro Savini che purtroppo per questioni personali non sono con noi ma con i quali abbiamo costruito i contenuti di questo webinar e che praticamente quotidianamente lavorano sul tema della semplificazione amministrativa insieme alla dottoressa Papara e insieme al Dipartimento per la Funzione Pubblica. Quindi diciamo sono con noi oggi idealmente. Questo primo appuntamento ci tenevo appunto a dire che procede appunto di pari passo insieme alle attività istituzionali che Anci fa con i diversi interlocutori di governo per cui sicuramente i prossimi webinar noi vorremmo concentrarli sempre condividendoli con il Dipartimento per la Funzione Pubblica sulla presentazione dell'agenda per la semplificazione 21-23 e poi più avanti magari a novembre illustrare i risvolti, gli obblighi che sono in capo ai comuni in riferimento alla realizzazione dello sportello unico digitale europeo, quello da molti temuto conosciuto come il single digital gateway previsto dai regolamenti comunitari. Venendo a oggi, quello fatto con il decreto semplificazione che è stato come sapete recentemente convertito in legge dal Parlamento, noi riteniamo, tutti quanti riteniamo essere un importante, un significativo passo verso quel processo di reale, concreta semplificazione nei rapporti tra PA e cittadini, PA e imprese sul quale in tanti, anche tra voi da tanto tempo lavorano e ovviamente molti passi avanti sono stati fatti, molti miglioramenti sono già stati fatti ma sappiamo ancora molto c'è da fare, se pensiamo che sono ormai più di 30 anni che ci si lavora, che si cercano e si sperimentano strade di semplificazione. Le novità introdotte dal decreto, dalla legge, scusatemi, sono molte, sono importanti, le conosciamo già a grandi linee, la certezza alla misurazione dei tempi, l'inefficacia di provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini, l'estensione al regime dell'utilizzo delle autocertificazioni per le stanze di parte relative all'erogazione dei benefici economici, insomma ci sono importanti passaggi che vi verranno illustrati meglio di come potrei farlo io assolutamente dalla dottoressa Silvia Papore e dopo dal dottor Domenico Trombino. Io ovviamente tenevo a ricordare quello che è un po' il punto di vista istituzionale anche dell'Anci perché non è solo un tema legato all'azione delle città metropolitane ma più in generale di tutti i comuni, è importante per noi sottolineare che l'interpretazione, la lettura del decreto deve essere ovviamente sempre fatta a partire dalle lenti che indossano i comuni che sono come sappiamo in prima linea anche in questo momento nella gestione delle emergenze sociali, economiche che sono nate nelle nostre, oltre a quelle ovviamente sanitarie che sono nate nelle nostre comunità in conseguenza dell'emergenza Covid. Quindi da una parte sicuramente interessante le misure introdotte sul tema di appalti e lavori, le misure relative ai comuni interessati dai procedimenti legati alla ricostruzione post-sisma, le procedure di autorizzazione sono appunto abbiamo detto tante le opportunità che si aprono per il rilancio delle economie dei nostri territori. Sicuramente appunto in questo senso come ho detto i comuni che sono in prima fila e hanno tutto l'interesse, non sono certo interessati a ostacolare la semplificazione, ma anzi io credo si possa testimoniare come molte delle diverse delle misure di semplificazione che sono anche presenti nella legge, vengono anche da istanze nate all'interno dei comuni proposte dal lancio. Dall'altra parte sappiamo tutti però che queste novità poi per essere efficaci devono anche incontrare un contesto organizzativo, un contesto regolativo che metta in grado i comuni di operare in modo positivo nei confronti delle imprese e dei cittadini. Per cui ad esempio, un esempio così che possiamo fare, che ancora richiede passaggi ulteriori e uno sforzo che credo possa trovare tutti concordi è quello della possibilità per i comuni di accedere a banche dati pubbliche a titolo non oneroso ad esempio, a poter attivare più strette collaborazioni con gli enti terzi, soprattutto con gli statari che intervengono sul procedimento unico e quindi insomma la possibilità, la capacità di agire con i controlli. Sicuramente, e vado a chiudere, sono tutti aspetti questi che necessitano un accordo, una concordanza di divisione tra comuni e governo, ma su questo mi sento di dire che si sta lavorando da tempo in modo concorde. Ma sappiamo come poi queste previsioni necessitano anche di interventi, di risorse per consentire a tutti di essere applicati. Gli aspetti che ho accennato e a cui Anci da tempo tiene e che riconosce come prioritari sono sicuramente già a conoscenza del governo, della funzione pubblica e sono priorità che riteniamo debbano trovare posto nella futura agenda, anche in previsione della assoluta necessità di procedure semplificate che avremo nel momento in cui i comuni, ma non solo i comuni ovviamente, ma i comuni come terminale, ancora una volta come terminale territoriale, come terminale di comunità, dovranno agire per realizzare le azioni previste dal recovery fund. In questo senso noi sappiamo che c'è un lavoro in corso del lanci importante di condivisione con le città metropolitane e con le città dei possibili interventi da inserire nel recovery per la trasformazione urbana, per la trasformazione economica e sociale degli agglomerati urbani e quindi sappiamo che la richiesta che ci fa il recovery è quella di interventi tempestivi, veloci che si chiudano entro il 2026 e se non agiamo in un contesto di regole semplici, semplificate che consentano a comuni e a imprese di lavorare velocemente, tempestivamente, rischiamo di fallire un obiettivo che probabilmente perdere un'occasione che è forse unica nella storia del nostro Paese. Io lascio adesso la parola alla collega Rosalba Picerno che modererà, nel senso passa la parola ai relatori, saluto tutti quanti, auguro un buon lavoro, saluto e ringrazio il dottor Trombino per la disponibilità, ma soprattutto saluto e ringrazio Silvia Paparo con la quale è sempre un piacere lavorare anche su questioni che sappiamo tutti essere così a cuore dei nostri dirigenti e funzionari comunali. Buon lavoro a tutti e buona giornata. Grazie Paolo, benvenuti a tutti e grazie di aver aderito a questa prima iniziativa di una serie di webinar di cui ha già parlato Paolo. Prima di cedere la parola alla dottoressa Paparo, una piccola indicazione sull'agenda dei lavori di questo primo webinar. Abbiamo pensato di dedicare mezz'ora all'intervento di ciascun relatore per ritagliarci nella parte finale del webinar una ventina di minuti, una mezz'ora per rispondere alle domande, cercando appunto di fare una selezione delle più rilevanti, per rispondere alle domande che vorrete porci nella chat. Detto questo cedo la parola alla dottoressa Silvia Paparo, che è responsabile dell'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del DFP, con il quale Metropoli Strategiche ha dialogato in svariate occasioni. La ringrazio. Le abbiamo chiesto di parlarci quest'oggi delle modifiche alla legge 241 del 1990, con particolare riferimento però a ciò che attiene alla misurazione dei tempi, la sospensione dei termini e alle autocertificazioni. La ringrazio ancora una volta e le cedo la parola. Grazie dottoressa. Il contesto del decreto semplificazioni è quello, diciamo, di un intervento ad ampio spettro che ha la finalità di rimuovere ostacoli del sviluppo, di sviluppare, di sbloccare gli investimenti, liberando risorse e intervenendo a 360 gradi su... In diversi settori, edilizia, palti, infrastrutture, banda ultralarga, procedure ambientali e rinnovabili, nello stesso tempo, antimafia, nello stesso tempo, il decreto contiene misure di carattere trasversale a tutte le procedure e, diciamo, misure di digitalizzazione. Io, come mi è stato chiesto, dicevo, le norme nascono dall'esperienza, dalle generazioni che vengono dalle realtà territoriali, dai comuni e dalle regioni e... ma il vero momento della verità di una norma è quello della sua attuazione. La scelta, io volevo innanzitutto premettere che le norme sul procedimento amministrativo, diciamo, i piccoli interventi di modifica che trovate nel decreto legge avevano la finalità di realizzare piccole manutenzioni, non di rimettere, di cambiare per l'ennesima volta la disciplina della conferenza di servizi o la disciplina della scia e via dicendo, ma semplicemente di affrontare e di realizzare interventi che rendano più cogenti e più efficaci le disposizioni esistenti, in particolare in materia di conferenze di servizi, in materia di scia e in materia di silenzio a senso tra amministrazioni. Quindi, diciamo, questa è stata, a chi ci diceva, facciamo, mettiamo il silenzio a senso ovunque a 30 giorni, a 60 giorni, noi abbiamo detto no, facciamo interventi che siano effettivi, che aiutino e che siano, che non siano degli annunci che rimangono sulla carta, ma che accompagnati nelle amministrazioni naturalmente sappiamo bene che poi le norme devono essere applicate e il problema non è solo di buona volontà, è un problema di formazione, di dotazione dei personali, di tecnologie, sappiamo bene quali sono la dimensione dei problemi che dobbiamo affrontare. La prima e forse a mio parere la più rilevante disposizione è quella che riguarda l'inefficacia degli atti tardivi in caso di conferenze di servizi, di silenzio a senso e di scia, cioè il nuovo comma 8 bis dell'articolo 2 della legge 241 del 90. Allora, questa norma nasce da proposte che sono venute da alcuni comuni e che dalle numerosissime segnalazioni delle difficoltà connesse a ritardo nell'adozione dei provvedimenti da parte degli enti tessi o anche da situazioni paradossali in cui ci si trovava nelle conferenze di servizi e cioè il responsabile del procedimento dopo aver chiuso la conferenza di servizi con incidenza e assenso da parte di questa o di un'altra o di una o più amministrazioni, si trovavano poi di fronte al diniego tardivo. Naturalmente, con tutti i problemi che ne derivavano, è ovvio che a fronte di queste segnalazioni noi dicevamo il diniego tardivo era inefficace, ma si creava una situazione in cui oppure gli atti tardivi, i provvedimenti di divieto tardivi nel caso della scia. È chiaro che poi il cittadino si può rivolgere a stare, però questo naturalmente crea insicurezza e crea anche in molte situazioni ci sono segnalato che i responsabili delle conferenze non chiudevano in attesa del provvedimento tardivo per paura che gli arrivasse il provvedimento tardivo. Quindi la norma è semplice, certo ci si arrivava anche in via interpretativa, però almeno il nostro obiettivo è di dare certezza le determinazioni relative a provvedimenti, autorizzazioni, parere nulla osta, comunque dominati, adottati dopo la scadenza dei termini di invio degli atti d'assenso indicati nella comunicazione di indizione della conferenza dei servizi in forma semplificata, dopo la scadenza dei termini del silenzio silenzio e senso nei casi limitati in cui c'è il silenzio e senso dell'articolo 20 o successivamente all'ultima riunione della conferenza simultanea sono comunque inefficaci. Analogamente sono inefficaci i provvedimenti di dirieto e di prosecuzione delle attività di rimozione degli effetti dannosi adottati nei corsi termini dell'articolo 19 bis comma 3, cioè i 70 giorni e comma 6 bis i 30 giorni dell'edilizia. Nel caso dell'articolo 19, la norma è chiarissima, già oggi i provvedimenti di dirieto vanno adottati nei termini. ferma restando, però per completezza abbiamo voluto rendere chiara questa disposizione, è evidente che resta fermo l'intervento in alto tutela quando ne ricorrono le condizioni, ma questo è sempre così, va detto anche nel caso della scia, penso alla scendizia che ha dei termini particolarmente stringenti rispetto alla scia commerciale e c'è, so bene, una difficoltà a effettuare i controlli nei termini. Qui, diciamo, deve essere chiaro che, diciamo, una cosa è che i provvedimenti di dirieto non possono essere adottati. Naturalmente l'ordinaria attività di vigilanza edilizia di fronte ad abusi rimane sempre ferma. Come rimane fermo, e questo è importante, diciamo, anche quando ragioniamo sull'autocertificazione, come rimane fermo la decadenza del beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni, quindi la decadenza rimane, diciamo, oltre il termine ovviamente dei 60 giorni, diciamo, ma questo, diciamo, i provvedimenti di dirieto o di rimozione dell'effetto, non possono essere adottati entro i 60 giorni, quindi i controlli devono essere effettuati. in quei termini. Ovviamente, diciamo, nel caso di falsa dichiarazione, la decadenza rimane ferma oltre i termini del beneficio. Il preavviso di diniego. Qui, diciamo, la modifica, come sapete, è, diciamo, l'articolo 2 della legge 241, disciplina in caso di richiesto di integrazione documentale, la sostenzione dei termini. Nel caso di preavviso di diniego i termini erano interrotti, quindi ricominciavano a decorrere fin dall'inizio. e questo, quindi, la scelta è stata quella, diciamo, a me pare più coerente anche con i principi di efficienza, di efficacia, di buon andamento, di sostituire l'interruzione dei termini con la sospensione. È chiaro che se c'è il caso di preavviso di diniego i termini sono sospeti e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, che è voluto mantenere un lasso di dieci giorni per consentire, diciamo, all'amministrazione di valutare le osservazioni. Qualora l'autorità competente confermi il provvedimento di diniego, deve indicare espressamente delle motivazioni le ragioni ostative ulteriori che conseguono alle osservazioni presentate dal privato e qui e quindi si prevede che nel caso ci sia un annullamento in giudizio del provvedimento a seguito dell'applicazione dell'articolo 10 bis, l'amministrazione competente non può addurre motivazioni diverse, per la prima volta motivi ostativi che già conosceva e che potevano essere conoscibili a quel punto. Quindi si, diciamo, sancisce che il dovere dell'amministrazione di essere particolarmente rigorosi nella verifica dei profili rilevanti, eliminando la possibilità di avere sulla stessa questione tra avvisi di diniego basati su motivi ostativi diversi. Anche questo è, diciamo, una problematica emersa sulla base, diciamo, delle prassi applicative. Connessa alla modifica dell'articolo 10 è la modifica dell'articolo 21, che restringe i limiti di annullabilità del provvedimento in caso di mancata comunicazione, prevedendo che, diciamo, sia sempre annullabile quando il provvedimento è stato adottato in direzione alla normativa sul preavviso di diniego. Anche questo, diciamo, è un intervento che certo, diciamo, può avere, diciamo, anche un impatto sulle amministrazioni, ma steso a rendere più coegente l'istituto del preavviso di diniego. non voglio sovrappormi, queste sono, diciamo, le norme fondamentali di passare a quelle della misurazione dei tempi, non voglio sovrappormi all'intervento si stavo vedendo, scusate le domande, dicevo, come vedete, non è stata, nonostante anche numerosi meritamenti parlamentari lo proponessero, se fossero i figli dell'istituto al mondo, si è scelto di non modificare la disciplina sulla 241. scusate, continuavo a seguire la discussione sulla chat, poi dopo la, tanto la state vedendo anche voi, dicevo, si è scelto di non intervenire sulla conferenza dei servizi, quindi di ridurre al minimo le modifiche a legge sul procedimento e, diciamo, la norma di, diciamo, è stata prevista una forma di ulteriore accelerazione della procedura della conferenza dei servizi per il periodo dell'emergenza e in via facoltativa e quindi si è scelto di non modificare ancora, perché ogni modifica deve essere ben ponderata, fondata sulla base dell'esperienza. passiamo, poi magari vediamo insieme le domande, alla questione della misurazione dei tempi, allora, come dicevo, scusate, c'è un attimo, ecco, come dicevo, noi siamo partiti dalla, diciamo, dalla questione di fronte a forti spinte a ridurre ulteriormente i termini, noi avevo detto, lavoriamo per assicurare i termini attualmente previsti e da qui è nata, si è ritornata la questione della misurazione dei tempi, non è nuova, c'era l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi dei procedimenti, poi abrogato, diciamo, nel decreto legislativo 33 e poi abrogato nei correttivi. Qui noi proponiamo un percorso graduale che tenda a, appunto, garantire, l'obiettivo è quello di garantire l'effettività dei tempi di conclusione dei procedimenti e, diciamo, la norma dice, diciamo, espressamente riferimento a una categoria che potrebbe sembrare un po' singolare, tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese. Questo significa perché abbiamo scelto questa locuzione, che può essere generica, quali sono, quali sono i criteri, e per dare un'idea che noi vogliamo avviare un processo graduale, selettivo, in cui cominciamo a lavorare sull'effettività dei termini e sull'isolazione come strumento di diagnosi dei problemi di semplicità, complessità della procedura e anche di individuazione dei problemi a affrontare, organizzativi, carettivi, carettivi personale, tecnologici di essere stato una C, di rapporto con gli enti terzi, sappiamo benissimo che molto viene dagli enti terzi, diciamo da lì, però, quindi, strumento di autodiagnosi, strumento di benchmarking e di miglioramento continuo, perché anche un confronto tra le esperienze porta a capire perché in quel comune quei termini, la carta di identità, l'appuntamento per la carta di identità bisogna aspettare tre giorni e in quell'altro bisogna aspettare tre mesi, può esserci un problema di organizzazioni, di carenze di personale, ma anche, diciamo, il benchmarking aiuta ad affrontare i problemi da un lato e di mettere davvero al centro, perché quello che chiedono i cittadini è certezza dei tempi, altrimenti i cittadini, quello che chiedono agli investitori e via dicendo. Io mi avvio rapidamente alla fine, perché avendo dovuto ripartire da zero ho perso qualche minuto, io penso, quindi, diciamo, la misurazione dei tempi è costruita su un processo, un percorso di proporzionalità e di sostenibilità delle attività di misurazione. L'idea è in qualche modo quella di individuare un numero gradualmente, un numero minimo di procedure da misurare, cominciamo, faccio un esempio, cominciamo da due procedure, la carta di identità è un procedimento per le attività di imprese, sto facendo delle imprese, so bene che poi sulla carta di identità c'è una parte che dipende dal poligrafico, ma era per fare due tempi, decidiamo cinque procedimenti regionali, ma quelli cominciamo a misurarli dappertutto, ovviamente poi comuni che hanno maggiori esperimenti, maggiori possibilità, sistemi informativi che aiutano la misurazione, potranno fare di più e meglio, ma avviamo un percorso che affronti questo che è il problema, dobbiamo costruire insieme le linee guida, quindi dovremmo verificare i criteri per la selezione di procedure, cosa misurare, avere definizioni comuni e anche le modalità di rilevazione e la pubblicazione, perché sarebbe bello, oltre al sito dell'amministrazione, avere un portale in cui ci sono, come in alcune realtà c'è sul pronto soccorso, ci sono le attese, è chiaro che questo mette in tensione, però determina anche un meccanismo che cerca di capire come si può migliorare, rendere più efficace, quali sono le criticità che possono stare dietro a un tempo più lungo. Allora, per quanto riguarda l'autocertificazione, è stata, diciamo, che è sempre stata disciplinata nel 445, è stata inserita pienamente, anche questa è una proposta dell'Anci, a pieno titolo anche nella legge 241, ma nella sostanza non ci sono modifiche della disciplina sostanziale, le modifiche sono state fatte col decreto 264, sono piccole modifiche, qui trovate alcune. Finisco con il tema di fondo, questo non è nel decreto semplificazione, è nel decreto rilancio, è il tema dell'accesso alle banche dati, senza il quale giusti controlli exposti, eccetera, eccetera, ritrovate nel… e qui è stata prevista, una modifica al CAD, la previsione degli accordi di fruizione che consentono a migliaia di amministrazioni di accedere agevolmente. Il primo banco di prova è quello della ANPR, io mi fermo qui perché non voglio togliere il tempo al collega Trombino. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e… Sì, allora dottoressa, dato il ritardo con il quale siamo partiti, io darei la parola a Domenico Trombino. Cerchiamo di capire alla fine dell'intervento del dottor Trombino se ci rimane qualche minuto per rispondere alle domande, anche perché alcune sono molto puntuali e riguardano nello specifico il suo intervento. Altrimenti, come mozione d'ordine, facciamo così, noi le domande le raccogliamo, tra qualche giorno le rendiamo disponibili in modalità FAC. Questa, diciamo, è la soluzione che ci rimane sullo sfondo. Io a questo punto do la parola al dottor Domenico Trombino del Comune di Firenze, dove è responsabile del coordinamento SUAP, del supporto giuridico e delle sanzioni. E per quanto riguarda l'ANCI, è membro del gruppo tecnico sulle attività produttive, per cui lavora da anni, segue da anni il tema delle esemplificazioni amministrative e lavora con noi ai principali interventi normativi di settore. Io lo ringrazio, gli cedo subito la parola. Grazie dottor Trombino. Io, diciamo certo, dopo un intervento quale è quello di Silvia, diciamo, diventa magari difficile tornare su punti più generali, su un'introduzione più generale, ma mi sembra, io ritengo funzionale farlo, soprattutto in considerazione di quello che penso sia importante, tra l'altro, in questo momento, in un webinar, dove il tempo non è, diciamo, tanto per quanto necessario a un approfondimento delle nuove normative, degli argomenti che andiamo a trattare. Io sono dell'avviso, spesso lo faccio anche nel mio lavoro istituzionale ed extra istituzionale, che sia importante, in prima battuta almeno, avere delle suggestioni, non acquisire delle suggestioni, capire qual è la volontà e sottesa alle norme che in quel momento, di cui in quel momento si affronta lo studio e la conoscenza. E questo poi è importante, questo poi ce lo si ritrova, perché è un po' come farsi all'inizio una piccola cassetta degli attrezzi, alla quale poi si ricorre nel momento in cui c'è il problema, quindi come quando si fa una piccola opera di manutenzione, ci si ricorda di avere il calibro di quell'attrezzo piuttosto che la misura di quella vite e si va direttamente a cercare per poi utilizzare al meglio quell'attrezzo. Allora facciamo un attimo un piccolo passaggio un po' di suggestioni, per capire anche che cosa si intende per semplificazione. Io voglio utilizzare un testo non giuridico intanto, ve lo leggo. Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere tutto quello che si vuole, colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare, pochi sono capaci di semplificare. Piero Angel ha detto un giorno, è difficile essere facile. Per semplificare bisogna togliere e per togliere bisogna sapere cosa togliere, come fa lo scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c'è in più della scultura che vuole fare. Teoricamente ogni masso di pietra può avere al suo interno una scultura bellissima. Come si fa a sapere dove ci si deve fermare per togliere senza rovinare la scultura? Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l'essenza delle cose e comunicarle nella loro essenzialità. Questo è Bruno Munari, non è un giurista ma è un artista, un designer, no? Era forse capito dal taglio di quello che si diceva. Bene, ora noi in questo momento a che punto della scultura siamo? Beh, sicuramente siamo nei dettagli, Silvia Paparo lo ha detto. La volontà del legislatore non era finalizzata ancora una volta e io aggiungo meno male a stravolgere il testo della legge fondamentale in materia di procedimento amministrativo. Non era questa la volontà, in passato lo è stato e non lo è stato sempre per volontà o per finalità sostanzialmente innovativa, alcune volte lo è stato anche per puro macchiaggio, per dire che un intervento si è fatto. Provo a pensare alla modifica dell'articolo 19 quando da dia si è passato a scia, ma si potrebbe proseguire. E siamo nel dettaglio e non potremmo che essere nei dettagli, quindi nei dettagli della nostra scultura e della nostra costruzione normativa, perché come già qualcuno che mi ha preceduto ha detto, per quanto riguarda la semplificazione, noi siamo a decenni e a decenni di lavoro. Potremmo iniziare dal codice civile del Regno d'Italia, ovvero contenuta una norma che permetteva al cittadino di certificare delle circostanze notorie, ma poi c'è stata la legge 823 del 56, c'è stata la legge il DPR 678 del 57 che ne ha dato applicazione, c'è stata la celeberrima legge 15 del 68 che solo ora, solo ora la citazione di questa legge viene eliminata dal legislatore proprio con il decreto semplificazione dall'articolo 18 della legge 241 del 90 sostituita per l'appunto dal DPR 445 che è il testo unico in materia di documentazione amministrazione. Quindi io sempre per capire dove si sta andando, perché è importante capire prima ancora che la norma dispositiva, qual è la portata di queste novità, quali sono quelle che io ho chiamato le linee di sviluppo del decreto semplificazione e io ho provato a riassumerle in questa slide, individuando dei punti centrali, dei punti principali. Sicuramente il decreto semplificazioni visto come testo di modifica alla 241 sicuramente pone il focus sui tempi del procedimento, qualcosa ha già detto Silvia Paparo e in questo mi agevola nella esposizione, quindi monitoraggio dei tempi del procedimento, pubblicità, revisione in riduzione dei tempi del procedimento, in efficacia dei provvedimenti tardivi, ne ha già parlato Silvia Paparo e già questo ha dato la stura a non poche domande da parte vostra. Poi un altro filone di sviluppo è sicuramente l'inerzia della pubblica amministrazione che non può gravare su cittadino e impresa e in questo filone noi andiamo a trovare gli effetti taciti stabiliti dalla legge che non sono sicuramente un optional e questo è direttamente legato a quanto si diceva in ordine al comma 8 bis dell'articolo 2. L'inefficacia dei provvedimenti tardivi, per l'appunto a questo facevo riferimento, la liberatoria per l'amministrazione procedente in caso di ritardo dell'amministrazione competente nel rilasciare atti richiesti, poi l'altro punto veramente rilevante, più digitale e telematica per tutti, quindi digitalizzazione e telematica si affermano ancora una volta, si spera questa volta in via definitiva, come regola generale, come regola generale salvo eccezioni. Poi abbiamo le semplificazioni classiche, ampliamento dell'ambito delle autocertificazioni, ne ha parlato già Silvia, e riduzione dei tempi di procedimento, ritorna a questo punto della riduzione. Ora, quando si parla di semplificazione noi dobbiamo intenderci, ci sono diverse spaccettature, diverse nozioni di semplificazioni, noi qui parliamo di semplificazioni procedimentali senza utilizzare una elugubrazione giuridica molto alta come qualcosa che causa ed effetto della riduzione, se non anche della rimozione di ciò che variamente rallenta, rende difficoltoso, impedisce l'interlocuzione tra privato e pubblica amministrazione. Deve essere per esempio tenuto comunque distinto da qualcosa che, diciamo, è dal punto di vista della nozione un po' diverso, che è il concetto di facilitazione, che guida diverse tra le novità di questo decreto semplificazioni, come quella del domicilio digitale, ad esempio, che è una novità, quella di prevedere l'indicazione del domicilio digitale obbligatorio nelle comunicazioni tra Pia e cittadino, segnatamente nella comunicazione di avvio del procedimento. Una novità, dicevo, che sicuramente non rende più in identificabile, no? O, diciamo, né più certo il centro di imputazione e di responsabilità, secondo la razio degli articoli 5 e 8 della 241, ma sicuramente ne rende più facile, agevole, la reperibilità, va bene? E anche l'interlocuzione, se vogliamo. Quindi noi non dobbiamo comunque farci ingannare dall'idea che si parli di semplificazione, si parli di decreto semplificazione, perché, diciamo, in esso c'è semplificazione, ci sono anche in parte liberalizzazioni, se vogliamo, no? Ma c'è anche parecchia facilitazione. Sicuramente, come diceva Silvia prima, diciamo che in questo momento si è lavorato su alcuni dettagli, sulla volontà comunque di rendere più agevole l'attuazione di alcune disposizioni della 241. Stando a Munari potremmo dire che siamo nei dettagli del viso, no? In una scultura, però bisogna stare molto attenti perché in quei punti lì si rischia di far saltare qualche dettaglio che fa saltare l'intera scultura. Basti pensare che una scheggia portata al naso della scultura, diciamo, ne pregiudica l'interezza e quindi in questo momento, quando il legislatore mette mano alla 241, fosse anche per alcuni dettagli, diciamo, la preoccupazione c'è e quindi bisogna sempre, diciamo, sperare che questo danno non ci sia. Silvia ne ha parlato, diciamo che poi la prova attuativa, la prova dell'applicazione sarà importante, sarà fondamentale come in tutte le norme. Facciamo una prima panoramica per capire l'entità di questo decreto semplificazioni e l'entità degli interventi sulla 241, che non sono pochi anche perché qualcuno rimane fuori dalla stessa modifica della 241, ma sulla 241 incide lo stesso. Sono norme che sono rimaste nel testo del decreto legge 16 luglio 2020 numero 76 come modificato dalla legge di conversione 120 del 2020. Scorriamo rapidamente, anche perché questo schema ci possa aiutare a capire e a tenere presente che, io l'ho evidenziato nell'ultima colonna, alcune disposizioni hanno già vigore, sono già in vigore dal 17-7-2020, perché contenute nel decreto legge, altre invece sono vigenti dal 15 settembre scorso con la legge di conversione 120-2020. Quindi si è intervenuti sull'articolo 1, si è intervenuti quindi diciamo sull'articolo 1 e sui principi, ora lo vedremo subito, sull'articolo 2 conclusione del procedimento e quindi comma bis, 4 bis e 8 bis, misurazione dei tempi e inefficacia dei provvedimenti intempestivi. L'articolo 3 bis, quindi dall'incentivazione all'azione e dalla facoltà all'obbligo per quanto riguarda l'uso della telematica. L'articolo 5, responsabilità del procedimento, domicilio digitale del responsabile e poi all'articolo 8, il domicilio digitale dell'amministrazione e il luogo telematico dove prendere visione degli atti e tutte queste norme, comprese le modifiche al 10 bis di fonte decreto legge, quindi già in vigore da luglio. Poi abbiamo l'articolo 16, l'attività consultiva con regole univoche per tutti i pareri, in buona sostanza viene meno la differenza tra parere obbligatorio e parere facoltativo per quanto riguarda poi la possibilità che l'amministrazione procedente possa in qualche modo ometterli ove non forniti tempestivamente, anche qui viene fuori il concetto di tempestivo, da parte delle amministrazioni competenti. articolo 17b, silenzio assenso, era prima rubricato, qui c'è un refuso, effetti del silenzio assenso e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori, quindi qui si rivedono i termini e le modalità dei procedimenti e dei procedimenti ad empimenti e questo articolo non è estraneo a quanto si diceva prima sull'8 bis, è richiamato dal comma 8 bis dell'articolo 2, l'articolo 18 sulle autocertificazioni che al di là delle precisazioni terminologiche e l'indicazione del DPR 445, il luogo della legge 1568 di cui parlavo prima, abbiamo anche l'ampliamento dell'ambito oggettivo delle autocertificazioni di cui ha ben parlato già Silvia. Poi abbiamo ancora l'articolo 21 opties, l'annullabilità del provvedimento ed esclusione del provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis, mi piacerebbe poter dire rapidamente una cosa in aggiunta quello già detto da Silvia prima, articolo 21 deces che è un articolo nuovo riferito ai casi di annullamento in giudizio di un provvedimento che poi deve essere riemesso in materia di autorizzazione e di valutazione di impatto ambientale, questo opera della legge di conversione e infine l'articolo 29, ambito di applicazione della legge per quanto riguarda la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti. Questo è la panoramica, quindi come potete vedere non sono pochi gli interventi anche se quelli veramente incisivi sono soltanto alcuni, quindi vengono toccati i principi fondamentali e fondamenti del procedimento amministrativo, la digitalizzazione e la telematica e anche le fasi avanzate del procedimento amministrativo nelle quali sicuramente noi andiamo a indicare sia tutto quello che abbiamo detto del 10 bis, sia l'inerzia e la riemissione del provvedimento annullato di cui abbiamo parlato ora, sia l'estensione dell'autocertificazione. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio queste novità, un pochettino per quello che ci è consentito dal tempo ovviamente nel dettaglio. La prima introduzione riguarda l'articolo 1 che è quello dei principi. L'articolo 1 della 241 è un precipitato dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica, tant'è che esplode i tre principi di legalità buon andamento e imparzialità contenuti nell'articolo 97, li esplode quest'articolo 1 nei principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, agire iure privatorum come soggetto di diritto privato, celerità del procedimento. Poi a questi, questa declaratoria di principi viene ora integrata dai principi di collaborazione e di buona fede che sono mutuati dal rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Per la verità si sono consolidati in quell'ambito, speriamo che nell'ambito del procedimento amministrativo abbiano maggior fortuna che in quello dei tributi e delle finanze. Diciamo che questa estensione è una dichiarazione di difficile perseguibilità, chiaramente mi verrebbero in mente diversi esempi soprattutto nell'ambito sanzionatorio, ma diventa difficile rendere coattiva una disposizione di questo genere, è un principio che comunque va a arricchire la declaratoria di quelli dell'articolo 1. Andando, e quindi questo come possiamo vedere, questo 2 bis va ad essere integrato in coda a tutti gli altri dell'articolo 1 della legge 240. Poi passiamo all'articolo 2,4 bis, tenuto conto anche dell'articolo 29,2 bis, perché entrambi insistono sui tempi effettivi di conclusione del procedimento. Diciamo che deve essere tempi effettivi, badate bene, non si parla di tempi teorici, quindi il monitoraggio va fatto sui tempi effettivi e poi comparato sui tempi previsti dalle normative di riferimento. Ciò poi richiede la pubblicazione in amministrazione trasparente. Ora, come vedremo nel testo della norma, non di tutti i procedimenti, ma dice la norma di quelli di maggiore impatto. Dice la norma quelli di maggiore impatto senza però indicarli, per cui è a questo punto rimesso alle pubbliche amministrazioni con proprio atto, l'individuazione di questi procedimenti di maggiore impatto che, diciamo, per i quali che devono essere sottoposti al monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti. Diciamo che a questa norma è collegata quella dell'articolo 29,2 bis che, diciamo, inquadra l'obbligo di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nelle LEP, cioè dire i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 secondo comma della 241. Quindi qui, allora, è questo, l'articolo 29, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni insieme a tutti, quindi qui c'è una modifica di quest'articolo, non è di nuova introduzione, insieme ad altri, ad altri, diciamo, ad altri indicatori di livelli essenziali delle prestazioni che erano già previste nell'articolo 29,2 bis e che possiamo leggere qui dalla slide, ora viene aggiunta anche la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e questo diventa importante perché, siccome si tratta di indicatori di godimento di diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in maniera uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, quindi questi non possono subire mai alcuna deroga per quanto riguarda gli enti substatali, ma solo a livello di normativa statale, ma anzi gli enti substatali, quindi tutti i livelli istituzionali, comuni, regioni e via discorrendo, sono chiamati, diciamo, a rispettarli e a recepirli comunque nei loro atti. Andando avanti, troviamo qui rappresentati in maniera un pochettino più, in materia plastica, la norma a cui faceva riferimento la Silvia che mi ha preceduto, quindi l'articolo 2,8 bis. Io aggiungo poco, diciamo, allora, ma un dato che secondo me per l'interprete è importante. Io ho letto diverse richieste di, diciamo, da parte dei partecipanti circa l'eventuale perché inefficacia, perché potrebbe già essere considerato illegittimo l'atto tardivo. Diciamo, tutte argomentazioni molto interessanti, per esempio, personalmente avrei ritenuto ancora più incisivo parlare di nullità piuttosto che di inefficacia. Però, a prescindere da questo, quello che in questo momento è importante, perché comunque si trattava di un atto, ma Silvia lo ha detto, comunque è aggredibile l'atto tardivo. Sarebbe stato comunque aggredibile. Però, ecco, il fatto che ora la norma, diciamo, dica chiaramente, lo sanzioni chiaramente, ora con la formula dell'inefficacia, che in effetti anche io penso, come alcuni dei partecipanti, che darà tanto lavoro ai giudici questo, però, ecco, quello che è importante capire e ricordare è che il provvedimento tardivo si rapporta a un meccanismo di produzione di effetti taciti che si vengono a produrre allo scadere del tempo. Questo non è per nulla indifferente. Anche nell'ottica dell'autotutela, che andrebbe ad incidere, ovviamente, proprio sull'effetto che si è prodotto tacitamente. Allora, in tutti questi casi che sono indicati, il 14 bis, il 14 ter, l'articolo 20, l'articolo 19 con i propri provvedimenti conformativi ed interdittivi, così come l'articolo 17 bis, di cui abbiamo già fatto cenno prima, diciamo, hanno ciascuno di questi, nelle norme, nella 241, quindi negli stessi articoli che li, diciamo, contemplano, e lo possiamo vedere in quelli successivi, nelle slide successive che adesso vi proietterò, seppur scorrendo, abbiamo il prodursi di un effetto tacito, va bene? Per cui allo scadere del termine, allo scadere del termine previsto dalla norma, già si produce l'effetto che la stessa norma indica, che può essere l'effetto di concludere la conferenza di servizi, che può essere l'effetto di considerare consolidato un divieto, oppure consolidato il titolo abilitativo, nel caso dell'articolo 20, ove non vi sia stato un tempestivo provvedimento di diniego. Bene, questo bisogna tenere fondamentalmente presente, fermo restando la validità di tutte le, diciamo, i dubbi che possono sorgere sulla entità della inefficacia piuttosto che della nullità dell'atto intempestivo. Questi atti intempestivi a cui fa riferimento il legislatore vanno ad attecchire su un procedimento che allo scadere di quel termine ha già prodotto un effetto tacito, un effetto tacito, e quindi l'atto intempestivo soccombe rispetto all'effetto tacito che si è prodotto, si è prodotto e si produce questo effetto tacito in tutti, in tutti gli articoli citati. Nell'articolo 14 bis l'effetto tacito è indicato al comma 5 lettera c, scaduto il termine di cui al comma 2 l'amministrazione precedente adotta, diciamo, la determinazione motivata di conclusione positiva, così come la stessa cosa all'articolo 14 ter, al comma 7 che richiama il nostro comma 2, vè l'indicazione dell'effetto che si produce tacitamente ove in un certo termine non siano pervenuti gli avvisi da parte delle amministrazioni competenti. Così all'articolo 17 bis, al comma 2, decorsi termini di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Così all'articolo 19, l'abbiamo detto, in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il termine l'attività si intende vietata, l'assenza di ulteriori provvedimenti, insomma, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. E' così il silenzio assenso dell'articolo 20 a cui ho già fatto riferimento. Quindi è importante tenere presente questo, è importante tenere presente che in effetti, è importante tenere presente che, allora, mi viene detto di attivare la webcam, non so se, però a me risulta attivata. Fatemi un cenno se la webcam è visibile. Io proseguo, io qui la webcam la vedo comunque attiva. Io, ecco, benissimo, vedo dei feedback, quindi proseguo. Allora, parlando di, abbiamo già citato il 14 bis, diciamo il 14 bis, il 14 termine, quindi abbiamo parlato di conferenza di servizi, allora voglio indicare uno di quegli articoli a cui facevo cenno prima, che voi non trovate nella 241 perché ha un'efficacia transitoria, ma rimane nel decreto legge convertito dalla legge 120 e dell'articolo 13 che dà la possibilità entro il 31 dicembre 2021 di indire una conferenza decisiva e diciamo che laddove è indetta una conferenza di servizi decisoria è facoltà dell'amministrazione adottare lo strumento della conferenza semplificata. Ve lo richiamo e ve lo segnaro soltanto perché credo di, diciamo, vorrei darvi ulteriori informazioni e quindi vedo che il tempo incalza. Allora, vado avanti e passiamo alla fase della digitalizzazione e della telematica nel procedimento amministrativo e la parte, diciamo, la norma fondamentale la ritroviamo senz'altro nell'articolo 2,4 bis, quindi l'introduzione di questo quarto bis e 4 bis nell'articolo 2. Poi abbiamo l'articolo 29,2 bis. Allora, noi si passa dal che l'uso della telematica era soltanto incentivato, si passa a che l'uso della telematica viene reso in un certo senso a direzione obbligatoria, quindi prima era in un certo senso quasi una facoltà. Allora, quali sono i segnali? Sono proprio quelli della modifica dell'articolo 2, dove deve essere indicato il domicilio digitale del responsabile del procedimento e il domicilio digitale dell'amministrazione. In più, le modalità devono essere indicate le modalità telematiche di accesso agli arti. Le norme che sono modificate sono quelle che voi vedete visualizzate. Indicazione operativa. Mi sono già giunte delle richieste anche dagli uffici a cui afferisce il mio per chiedere ma qual è questo domicilio digitale? Cos'è che dobbiamo indicare? Bene, allora, un piccolo accenno sotto questo profilo è importante farlo. Allora, allo stato dell'area, allo stato dell'area, è molto probabile che si disponga della posta elettronica, dell'indirizzo di posta elettronica certificato, di posta elettronica certificato. Ebbene, a quel punto quello, a questo punto può essere un buon riferimento per ottemperare a quanto ora prevede il decreto, la legge 241 come modificata dal decreto. Perché dico una buona indicazione e non dico la soluzione del caso? Perché? Allora, sicuramente noi qui siamo a una norma, siamo a delle novità molto importanti. Perché? Perché, come dicevo di anzi, la telematica, quindi a questo punto la digitalizzazione, quindi si dà una forte spinta ulteriore alla digitalizzazione e alla dematerializzazione degli atti, processo già iniziato da diversi anni. Quindi diciamo che a questo punto il cartaceo viene ad essere veramente residuale, mentre la regola è quella della dematerializzazione, della digitalizzazione della telematica. Perché a questo punto noi, diciamo, ci troveremmo tutti noi amministrazioni a dover valutare qual è effettivamente il domicilio digitale voluto dal legislatore? Perché il nostro ordinamento giuridico, diciamo, non è ancora perfettamente adeguato, non è adeguato ancora al regolamento IDAS, che è il regolamento europeo 909 del 2014, che non parla di posta elettronica certificata, ma è impostato sul servizio elettronico di recapito certificato, la cosiddetta SERC, quindi non già sulla PEC. Che cosa è avvenuto di seguito all'entrata in vigore di questo regolamento? È avvenuto che è stato emanato il decreto legislativo 217 del 2017, che praticamente aveva posto che modificando il CAD e la definizione di domicilio digitale contenuta nell'articolo 1,1 lettera NTER dello stesso CAD, codice dell'amministrazione digitale, praticamente ha posto in alternativa questo servizio elettronico di recapito certificato voluto dal legislatore europeo insieme in alternativa con la PEC, impegnandosi però ad approvare un DPCM che avrebbe permesso l'adozione di regole tecniche per conformare il più possibile la PEC al servizio elettronico di recapito certificato. Questo DPCM però, che avrebbe dovuto peraltro sancire anche il venir meno dell'articolo 48 del CAD sulla posta elettronica certificato, non è stato approvato. Per cui ora che cosa possiamo dire? Sicuramente in una situazione qual è quella che probabilmente è quella della gran parte dei comuni, degli enti pubblici, la posta elettronica certificata può ben essere indicata come domicilio digitale, soprattutto però se iscritta all'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni che sono quelle che è quanto previsto dall'articolo 6 ter del codice dell'amministrazione digitale. Quindi, quale può essere il problema che ci si pone? Allora, che molto spesso l'indirizzo di posta elettronica certificata non coincida, non è l'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile di procedimento, quale è quello che prevede l'articolo 5 ora novellato. Quindi verrebbe un po' meno quel diretto collegamento, quella identificabilità diretta del responsabile di procedimento che rientra poi nella razio che rientra nella razio poi della 241 del 90. Però, diciamo, da questo punto di vista possiamo in un certo senso dire che il responsabile di procedimento comunque non si occulta perché il comma 3 dell'articolo 5 prevede comunque che vi sia l'indicazione del suo nominativo. E quindi questo per quanto riguarda la novità, la grossa novità riguardo la digitalizzazione e la telematica. Per quanto riguarda l'articolo 10 bis, la dottoressa Paparo ha già detto, quindi sottolineo che si passa dall'interruzione dei termini del procedimento alla sospensione, voglio dire qualcosa in più per quanto riguarda ciò che prevede l'articolo 21 opties, quindi la modifica all'articolo 21 opties, dove praticamente viene esclusa l'annullabilità del provvedimento di diniego adottato, adottato in difformità all'articolo 10 bis, anche se il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Allora, praticamente teniamo presente che il legislatore a questo punto va in controtendenza rispetto alla giurisprudenza che invece aveva sostenuto un dato più sostanziale che formale, quello per cui laddove alla stregua di quanto avviene per la comunicazione di avvio del procedimento, laddove comunque il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, diciamo, poteva tranquillamente non prevalere, quindi non essere viziato. Ora si traccia una differenza tra quello che l'articolo 21 opties continua a prevedere per la comunicazione di avvio e quello che invece è previsto ora dalla legge 241, articolo 21 opties, per quanto riguarda il provvedimento di diniego adottato in difformità all'articolo 10 bis, comunque una norma che per quanto io dubito possa avere una grande vocazione semplificatoria, sicuramente è di maggior forse garanzia per quanto riguarda la partecipazione, l'effettiva partecipazione dell'interessato. L'articolo 16, come dicevo prima, tiene a questo punto ai fini dell'acquisizione dei pareri, quindi l'attività consultiva che è molto, che è fisiologicamente diffusa per quanto riguarda il SUAP, l'attività consultiva, quindi la parieristica dei soggetti terzi, allora a questo punto viene meno ogni differenza tra parere obbligatorio e parere facoltativo laddove l'organo avito non abbia espresso il proprio parere, quindi una sorta di liberatoria per l'amministrazione procedente che quindi può per l'appunto procedere prescindendone sia che si tratti di parere obbligatorio sia che si tratti di parere facoltativo perché come potete vedere dalla slide l'articolo 16 comunque, l'articolo 16 comunque parla ormai soltanto di parere, parla ormai soltanto di parere. Dell'autocertificazione ha parlato Silvia e quindi io traccio soltanto, ecco vi mostro soltanto quest'ultima slide dove oltre a essere rappresentato l'articolo 17 bis del quale abbiamo già parlato e ho accennato io e ha fatto già riferimento Silvia e alle autocertificazioni quindi all'ampliamento dell'ambito delle autocertificazioni vi è questo articolo 21 deciso che viene introdotto ex novo riguarda l'annullamento del provvedimento finale per quanto riguarda autorizzazioni o valutazioni di impatto ambientale, allora in questo caso vi può essere una diversificazione, allora laddove diciamo con l'annullamento del provvedimento del giudice diciamo mirasse, quindi indicasse, perché il giudice come sapete non può sostituirsi alla pubblica amministrazione, quindi è richiesto un nuovo intervento della pubblica amministrazione a seguito dell'annullamento del provvedimento, laddove l'annullamento del provvedimento finale preludesse semplicemente all'integrazione degli atti e dei provvedimenti emessi, allora vi è un mero recepimento delle integrazioni. Invece la cosa più rilevante è quando l'annullamento diciamo richiede radicali modifichi al progetto con riaduzione degli atti annullati, allora in questo caso v'è la possibilità di riemettere l'atto ma con un procedimento semplificato a termini ridotti, quindi non si può diciamo riprendere da capo ex novo ma bisogna adottare una procedura più semplificata e a termini ridotti. Ora io spero di essermi abbastanza incastrato con l'informativa perché ho saltato ovviamente le parti che aveva già diffusamente trattato Silvia e spero di essermi incastrato bene con quanto da lei esposta per una completa informativa, la più completa possibile riguardo a queste novità che la 241 del 90 ha diciamo recepito di seguito a questo decreto semplificazione. Grazie mille Dottor Trombino, grazie anche a Silvia Paparo, nonostante le difficoltà iniziali sono riusciti a tenere fede all'impegno e a darci un quadro esaustivo e interessantissimo delle novità sul procedimento amministrativo recate dal DL76. Io direi che le domande che sono state veramente tante le raccogliamo e appena possibile le renderemo disponibili, renderemo disponibili le risposte in modalità FAQ perché altrimenti non abbiamo davvero il tempo. Il webinar, le slide e tutto sarà disponibile sul sito della Fondazione IFEL ma anche sulla piattaforma di e-learning di metropoli strategiche del progetto dove è attivo, vi ricordo come vi ha sottolineato Paolo Testa, il corso sulla semplificazione amministrativa per lo sviluppo economico. Solo un minuto per darvi appuntamento ad ottobre con l'agenda per la semplificazione 2021-2023, il prossimo webinar e a novembre per il regolamento relativo al Single Digital Gateway. Per quanto mi riguarda mi fermo, ringrazio ancora i relatori, ringrazio voi tutti. e...